ciao a tutti oggi prepareremo la bibita per intensificare l'abbronzatura il tempo di preparazione della ricetta è di tre minuti circa gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti con la buccia melone cantalupo tagliate a pezzetti albicocche tagliate a pezzetti pesche con la buccia tagliate a pezzetti e acqua molto fredda diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote il melone le pesche e le albicocche chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità da 6 fino ad arrivare a 10 riuniamo sul fondo del boccale richiudiamo nuovamente con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per altri 20 secondi a velocità 10 freniamo di nuovo sul fondo del boccale recuperiamo anche quello che c'è sul coperchio faccio vedere la consistenza adesso aggiungiamo l'acqua che deve essere molto fredda chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 10 la bibita è pronta adesso la filtreremo con un colino a maglie strette e andremo a servirla subito bibita per intensificare l'abbronzatura potete dolcificarla secondo il vostro gusto si conserva in frigo per 1 o 2 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti